All'Università di Teramo dal 1 marzo tornano le lezioni in presenza in concomitanza del secondo semestre. Una riorganizzazione imponente, quella messa in campo dall'Ateneo Teramano, per garantire la massima sicurezza di tutto il comparto universitario. Grazie agli investimenti fatti sarà possibile partecipare a tutti i corsi, quasi al 100% della capienza. Ovviamente perché è impossibilitato le lezioni saranno attive anche tramite il servizio online. Ripartiamo in modalità mista, anche se per quanto riguarda l'Università di Teramo, grazie all'organizzazione che è stata messa in piedi, quindi consentitemi di ringraziare tutti i collaboratori, i presidi, tutto il personale, riusciamo a trasformare questa modalità mista in presenza quasi completa. Alcune facoltà, alcuni corsi di laurea riprenderanno le lezioni già dalla seconda metà di febbraio. Il grosso delle lezioni del secondo semestre inizierà il primo marzo. Noi abbiamo avuto il vantaggio che avevamo predisposto già per il primo semestre tutta l'organizzazione, sia dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista delle attrezzature necessarie per ricominciare. E quindi abbiamo provveduto ad alcuni adattamenti. La novità è che i ragazzi, invece di iscriversi quotidianamente alle lezioni, potranno farlo online in tempo reale. E questo ci consentirà anche per il secondo semestre la tracciabilità completa, quotidiana, di chiunque entra e frequenta i locali dell'Università di Teramo. È un passaggio importante. Insomma, l'Università è questa e deve essere questa. Deve essere l'interazione costante e continua tra docenti, personale e ragazzi. Ma insomma, noi abbiamo degli studenti meravigliosi che però hanno bisogno di frequentare i locali della loro Università.